Sono arrivati in 300 dalla regione francese della Borgogna, produttori, esponenti politici locali e semplici degustatori, tutti insieme a Castellamare del Golfo per celebrare il vino, degustarlo e decantarne caratteristiche e peculiarità. Si corona questa sera avendo un sogno, che è partito due anni e mezzo fa, abbiamo pensato che era giusto fare un gemellaggio, quindi per uno scambio culturale appunto con la città di Bonn. È una bellissima iniziativa che ci inorgoglisce perché è cominciata con una serie di emozioni. La prima emozione è provata quando un charter è atterrato all'aeroporto di Florio e sono scesi da quel charter 286 francesi, felici di venire a Castellamare ma di conoscere la Sicilia perché non dimentichiamo che è una tre giorni questa, che questa sera si chiude ma in questi tre giorni i produttori della Francia sono andati in giro a fare degustazione delle cantine della nostra Sicilia e sappiamo che in Sicilia noi abbiamo cantine anche di eccellenza. Devo dire anche la mia città sta crescendo molto da questo punto di vista e quindi abbiamo voluto dare anche, se volete, coraggio a chi sta investendo in questo settore in un momento estremamente difficile per tutto quello che sta succedendo. e quindi vogliamo fortissimamente che questo sia un evento non isolato ma che sia l'inizio di un percorso. Alberto è di origini siciliane ma vive all'estero da sempre, istrionico e camaleontico. È stato uno dei primi a credere realmente alla possibilità di realizzare la Kermess, con lui la vice sindaca di Bong. Il più sorpreso sono io, fino a ieri non ci credevo neanche io, non gli posso raccontare tutti gli ostacoli direi che ho sorpassato per arrivare qua. Dopo da due mesi ho avuto veramente un supporto enorme dal comune di Castellamare che neanche lui non ci credeva, il comune di Bon aveva anche di molti dubbi perché è un'idea un po' pazzesca, io ho noleggiato due eri, siamo arrivati a Trapani, ma siamo fortunati, ci hanno creduto, abbiamo dei produttori della più grande zona divina a livello mondiale che vogliono vedere che cosa fanno i siciliani, che sono curiosi e che hanno l'umiltà di non pensare che sono i più grandi del mondo e che gli altri sono i scarsi. Voglio vedere quello che... e oggi sono piacevolmente sorpresi perché dicono cazzo che bella storia, che è... Nerello Maschalese, il Nereldabola, il Caricanti, il Catarato sono delle cose stupentissime. L'accueil chaleureux, l'accueil chaleureux, la chaleur dei gens, la chaleur del soleil, ma anche la chaleur di tutta questa... La gentilezza dell'uomo, il calore dell'umano, la voglia di ricevere e la voglia di dare. Questo è quello che ci ha sorpreso di più. E dopo abbiamo messo una pietra all'edificio, abbiamo iniziato a mettere una pietra all'edificio perché vogliamo tornarci ormai, perché abbiamo... Quando un prodotto ti piace ci vuoi tornare e hai voglia di scoprire e di scoprire e di scoprire. Grazie a tutti.